Recording e siamo qui A vedere questo match di Pulse tra Elpito e Oro Il Pito che sta usando Cloud, Oro chiaramente con Zero Suit Con ZSS e quindi vedremo un po' come andrà questo match Abbiamo che per ora abbiamo il 50% di match completati e il 60% di match completati Quindi siamo più o meno a metà Inizia subito questo game 1 su Smashville Buon jab 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 9 put Paralize, enough tilt, down area ad atterrare Vediamo un po' se Elpito riuscirà a fare l'upset pure Buono Allora, quindi Si vede Quindi buona situazione in vantaggio per Oro Uh, che prova questo back air Avrebbe sicuramente più stock Buon fair Buon, altro fair Oh, è l'ottimo down B Da parte di Come gli ho preso Ma non lo so È Ruba, è Ruba Loris è ladro Loris è di Cuneo per finta Napolino è cuore Tutto l'amore per la scena di Napoli Quindi Buon, buon jab jab Buon landing up air Lascia attack Buona Ottima Che bruttissima Penso fosse Penso possa essere la punish peggiore che poteva fare Neutral D Ok, carica il limit In questo momento E a kill percent L'oro Uh, riesce a prenderlo nei primi frame del limite Quindi Perdi il limit Buon up B Che però non connette col secondo colpo A per Un shield In jump Buon up tilt Quasi Quasi muore Down throw Nair Ottimo Nair Ok, quindi Ehm Situazione in parità Colto il fatto che C'ha uno stock in più L'oro Quindi vedremo un po' Cosa riuscirà a fare Le cose bellissime che succedono su smash Tutte e due si colpiscono e volano nella stessa direzione Buona throw Siamo un po' Job jab Dopo lo zero Uh, buon 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 limit Crosslash Che quindi prende il primo stock Ma Eh, si Esplode così E quindi 1-0 Per oro Oro che banna L-Lylat Il peggior stage per Zero Sud Samus Credo È il peggior stage Guarda alcuni match up tipo Pikachu O paionetta E' facilissimo giocare contro Pikachu Sul Lion Tanto vedo Ultra che usa Green Ninja Oltre un uomo nuovo Quindi vediamo Uh Switch a Mario E va su Bastionfield Vediamo un po' se Pito riuscirà A fare un meglio rispetto Oh Quasi segue il flip kick E per poco non Prende lo spike Buon air Buon air in flip kick Che lo spike E ora Ha un vantaggio gigantesco In questo momento È davvero difficile Smash Oh Buona presa Prova Prova il niente Prova a leggere l'air doggia A rigrabbarlo Ma non penso comunque Sarebbe servito a molto Perché non avrebbe commesso Comunque Buoni danni A parte di Doris Che sta Sta andando con questo game Uno stock e mezzo In vantaggio Buon ampere Down air Sento La sensuale è veramente alta Quindi vediamo Buon Buon back air Riesce a tornare Down air No Fissima punish Da parte del visto Buon Back air Down throw in niente Però a down throw in nero Ma buon di high Da parte di oro Quindi Ah Ah Fax smash L'ho visto Ehm Quindi questo è 2 a 0 Prevaler Doggie E finisce così Well Satchai Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info